secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non ho investito uno lol credo anche l'altro ho fatto dopo il kill oh my god sayon no vabbè li ho investiti tutti e due si era il mio lol così così le daos a cosa è sta roba ho vinto 4 manufatti che figo vieni 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 eccomi saltiamo su qui andiamo a farci la picchiare mi ha detto di saltare io ho saltato si pare ha saltato giudaldi mi sono saltato oltre ma come sono saltato oltre c'è un problema c'è un problema brutale 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 salvaci ti prego avete fatto tutti e tre la prego intervenga brutale la prego intervenga piano 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 tutti e tre il forso terzo mese vado vado lei vade di là io creo che cazza resti ok vai 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 panchia non pensavo che aprisse una voragine or canne mamma mia qua è stato buttato giù immobile che era dolorante a terra ma gli azzurri hanno capito che non c'era da perdere l'occasione, è stato subito rubato la palla e poi di nuovo let's go, vaffanculo dentro così c'era Immobile a terra in tutto questo dolorante, mamma che golasso, mamma che golasso li ha casciato a terra Immobile che golasso, che golasso P90, una mitraglia blu grazie io volevo il mio P90, pronto, P90 P90, P90 non disponibile P90 non disponibile, abbiamo capito non c'è il P90 va bene Madhuz sottolineatura Itas, secondo me dammi questa ciao Madhuz si Ricky si Ricky non è possibile vai giù non è possibile muoio come un coglione ma che partecipate a fare tanto arriverete ultimi Peppe Carota Zocca che fa pure rima coglione Zocca che cazzo fa 9 100 patetti sono in grado alex chello sono in grado dai 900 patettine sottolineatura il sottolineatura matto altro giro altra corsa unicorno cavallo unicorno cavallo del proprio che a propria cazzo e cazzo arriva il pazzo di pazzo di pazzo di pazzo piano nel senso non si chiamano piccone di march ma non mi ricordo come si chiamano li mettiamo doppi sto giro e andiamo la rifacciamo ma rifacciamo buonasera anzi buongiorno robino 05 ed i no let's go bella robin benvenuto welcome benvenuto money 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 gialla gialla io gialla gialla cim cim blin blin sac e gialla sic von demoni e the focchi saggiara cim cim blin blin can't stop e sic già la gialla che non sei mi scusi mi dico mi scusi mi dico ma lei non puoi lunedì mattina alle 8 e 45 ad onore 10.000 ok ciao simo spada ciao bello devo scendere di farmare faccio un senso ma si calmo però cancà non è che scende così dritto buon buon che cringe prende scappano subito prima ma dietro c'è tutto coperto c'è un botto di di matt da farmare torno full pietra e vado anche full legna se mi aspetti un attimo andrò a venire la faccia attenzione che c'è con le circonda mi romperano mi romper no no compito il legio dio benedetto del cielo fai qualcosa fai esplodere il pc 6 2 di 1 giallo più hamburghini quelli da un euro lui è stato un pazzo criminale da mangiare i borghi lirico monitox e here comes the money 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 jala jala yo zitti tutti cin cin blin blin so che c'è la e sic from the money and the fuck is on jala cin cin tonine can strap it e sic jala jala che non sei fro stracchit città